Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Bitcoin sta ritrovando un po' di forza negli ultimi giorni, nell'ultima settimana. Probabilmente siamo in una ciclo mensile intermedio, una particolarità che può avvenire da un punto di vista ciclico. Ne parliamo come sempre poi la settimana prossima nel video di analisi ciclica. Però qual era la domanda che un po' frulla in testa? Dovesse per caso Bitcoin riuscire a breccare il livello di resistenza intorno ai 45.000-46.000? Ve lo mostro oggi. Che cosa può succedere alle altcoin? Esistono delle criptovalute che potrebbero nel breve periodo, quindi nell'arco di una settimana, due settimane, accelerare al rialzo sull'onda magari di Bitcoin, sull'onda e sulla spinta di un breakout di Bitcoin. Ci avviciniamo alla fine settimana, oggi è venerdì, quindi può succedere tranquillamente questa cosa durante il weekend. A volte le cripto durante il weekend hanno dato questi boom in maniera tale da un po' spiazzare anche altri investitori che sono cuori. Quindi siamo alle porte del weekend, vediamo poi dalla settimana prossima, ma se succede questo breakout dei 45.000-46.000, questo trigger, questa miccia che innesca il boom, perché sicuramente ci sarà se Bitcoin sale sopra quei livelli, quali sono le cripto che sono più forti di Bitcoin negli ultimi mesi? Quali hanno agito bene rispetto a Bitcoin negli ultimi mesi? Lo vediamo in questo video, le andiamo a guardare, ne troviamo 5, vi faccio vedere dove, su quale lista. Le andiamo a spulciare, le vediamo sui grafici e cerchiamo di capire se sono più forti di BTC. Se BTC brecca, mi conviene comprare queste cripto per una settimana, fare trading su queste cripto, lo vediamo in questo video, ma nel frattempo io mi metto questo, di così, non ci riesco. Va bene ragazzi, allora, oggi andiamo a vedere tutto quello che c'è da dire sulla piattaforma di Atani, perché vi ho mostrato anche spesso e volentieri quella che era la piattaforma di Atani, eccola qui ragazzi, che ci consente di poter andare a fare trading su tutti i nostri exchange che connettiamo in questa zona qui, se voi andate in aggiunge exchange, ci sono tutti gli exchange che possiamo immettere sulla Tani con le API, andate a spulciare un po' come si fa e come non si fa, una volta che siamo lì, possiamo andare a fare trading sui nostri exchange, tutti quanti in una sola piattaforma. E' una cosa molto importante anche perché Atani da un paio di settimane vi dà anche la possibilità di fare questa cosa dal telefono, quindi potete anche operare su tutti gli exchange che avete inserito sulla piattaforma direttamente dal telefono e la cosa è figa perché ragazzi non andiamo a inserire 3000 password per entrare ad esempio nel conto X e nel conto Y o se abbiamo più exchange riusciamo a fare un'operazione su uno, un'operazione sull'altro senza switchare le applicazioni. Questo ci dà maggiore velocità ed è figo perché ovviamente la velocità in quest'ambito è tutto. E' gratis, vi lascio il link in descrizione, la testate, basta registrarsi al link con una semplice email, vi testate la piattaforma di Atani e come sempre fatemi sapere anche cosa ne pensate, se ci sono difficoltà nell'utilizzo perché noi spulciamo sempre questi nuovi servizi e è un software Atani ragazzi quindi andiamo a vedere come funziona, come non funziona, se ci sono delle problematiche che magari non siamo riusciti a trovare buttatele giù nei commenti così andiamo a vedere la questione. Allora prima però di andare a vedere tutti i grafici su Atani che andremo a utilizzare ci serve andare a trovare le criptovalute che hanno performato meglio di BTC e lo facciamo su Messari ragazzi, io ho l'abbonamento premium su Messari, il pro e posso fare delle liste, in sostanza Messari mi consente di fare degli screener sul settore delle criptovalute e possiamo farle in diversi modi differenti in questo caso io ho customizzato uno screener di altcoin verso BTC e su questo screener, qualcuno di voi se lo ricorda perché lo usavamo lo scorso anno in continuazione e su questo screener ho anche messo delle particolarità cioè un filtro per farmi eliminare quelle che sono le cripto più piccole quindi solo da 500 milioni di capitalizzazione in su e su questo screener sono andato a metterle in lista per andare a trovare quelle cripto che negli ultimi tre mesi, che è stato comunque un periodo difficile perché abbiamo avuto dicembre, gennaio e febbraio di ribassi e poi un trading range a marzo quindi gli ultimi tre mesi sono complicati ho cercato di vedere quelle che hanno performato meglio rispetto a Bitcoin non sono tante e questo già ve la dice lunga proprio perché tra le top, quindi sopra 500 milioni che ci sono anche quelle piccoline per esempio da un billion ragazzi un miliardo che magari sono comunque spesso molto accelerano insomma eccetera se andiamo a cliccare qui ho messo change verso BTC 30 giorni, 90 giorni, un anno come vedete a un anno ce ne sono un po' di più Bitcoin sta qui alla linea dello zero quindi ci sono 46 top cripto che hanno performato meglio di Bitcoin a distanza di un anno di cui alcune hanno sopra performato come Solana, Axie Infinity, Luna, Polygon e Timon Classic della quale diciamo andiamo ad approfondirla perché oggi la vediamo, Fantma eccetera eccetera però poi ragazzi a noi interessa nel breve in questo caso andare a scovare queste cripto quindi ho messo change verso BTC, 90 giorni e possiamo fare anche la stessa cosa in change ad un mese ad un mese sono un po' di più però anche qui ragazzi fino a 9 punti percentuali in pratica non c'è nessuna differenza all'interno di un mese è una giornata positiva di più quindi queste qui ok ci sono ma in sostanza sono uguali quelle che diciamo hanno performato un po' meglio io li considererei da qui in su, da luna in su perché in sostanza il resto sono oscillazioni di poco conto quindi sono andato a trovarmi le 90D e tra le 90D siamo, dobbiamo andare a prendere quelle che sono le top in questo caso e dire ok negli scorsi tre mesi nonostante una fase negativa noi abbiamo delle criptovalute che hanno performato benino tra cui c'è Leo anche di Bitfinex in realtà bisognerebbe fare un approfondimento su Leo come funziona, come non funziona perché è una cripto estremamente interessante poi magari lo andremo a fare c'è la mia amatissima Rune ormai che sta iper performando come vedete è tutto verde, 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 verde poi c'è FTT c'è ETC e diremo in classica l'andiamo a vedere oggi c'è anche Metis però Metis è troppo giovane in questo caso quindi non la teniamo in considerazione anche perché non ha il cambio a un anno quindi ci interessano solo diciamo quelle un pochettino più più ampie poi abbiamo Trust Wallet che sta performando anche abbastanza bene e Waves KNC insomma ragazzi queste sono le cripto poi abbiamo Luna qui in questo caso che performa bene negli ultimi 90 giorni ma niente di più perché sono al 7% in più addirittura c'è anche Ripple però ragazzi come vi dicevo prima queste intorno al 10% noi prendiamo in considerazione perché c'è un'oscillazione di un giorno in pratica per le cripto c'è addirittura Bitcoin Gold che comunque ha performato meglio di Bitcoin mio Dio c'è da dire però insomma in sostanza soltanto questa settimana ha fatto più 37 vabbè allora ne ho scelte 5 per una serie di motivi e andremo a vederle oggi quindi adesso ci spostiamo sulla piattaforma di Atani a vederle quindi prendiamo in considerazione KNC che è la prima è leader in questo caso poi prendiamo Waves che mi piace tantissimo vi farò vedere che graficone che ha abbiamo messo dentro Ethereum Classic perché è stranissimo vederla lì poi abbiamo Rune ed FT ok vi ho fatto l'elenco delle cripto che andiamo a vedere oggi adesso ci spostiamo e vediamo se possono in effetti sopra performare Bitcoin se Bitcoin fa questo breakout così ci prepariamo perché se nella prossima settimana avviene veramente questo breakout andiamo a vedere se queste cripto in effetti possono fare meglio o peggio del re delle criptovalute allora ci spostiamo su Atani e andiamo a tentare di cercare vi dico già che Rune non c'è perché non ho inserito ancora Binance su Atani ho solo Bitfinex e CoinEx un exchange strano che è un po' vecchiotto se qualcuno di voi si ricorda che mi segue perché su CoinEx ho delle diciamo delle operazioni in sospeso ragazzi e quindi ho delle liquidità e spesso faccio delle operazioni anche su questi exchange quindi preferisco averli su Atani così agisco più velocemente su exchange un po' di questo tipo allora intanto guardiamo Bitcoin che sta proprio alle prese con questa struttura attenzione ragazzi perché la terza volta 1,2,3 solitamente il triplo massimo su una barra di congestione ok ma il quadruplo no ragazzi solitamente il mercato più tocca un livello più lo indebolisce quindi in questo caso Bitcoin è vero che è la terza volta che tocca questo livello però potrebbe in effetti indebolirlo e magari proprio domani dopo domani o lunedì nel weekend potrebbe tentare il breakout un breakout di questo tipo va assolutamente tenuto in considerazione ragazzi perché probabilmente assisteremo a uno flash up quindi un boom fatto più o meno così quindi in questa zona qua immediato perché probabilmente qui chiuderanno tutti gli short chiuderanno le posizioni che sono contrarian insomma avvengono una serie di questioni quindi probabilmente assistiamo a un boom se succede una cosa del genere tra le altre cose la successiva resistenza più o meno è intorno ai 49 quindi questo spazio c'è e poi c'è un prezzo intermedio che potrebbe raggiungere Bitcoin intorno ai 47 e qualcosa giusto per poi diciamo stanziare un po' quindi come zona di riferimento questa pump potrebbe essere improvviso e avvenire in sostanza in pochissimo tempo ecco perché secondo me è giusto andare a fare un po' il briefing allora andiamo a vedere KNC come prima criptovaluta che potrebbe performare vedete una cosa molto particolare anche sui detali riesco a vedere sia USD direttamente ma poi possiamo anche vederla contro Bitcoin allora intanto mi posiziono con un time frame più lungo perché non voglio vedere la semplicemente l'andamento veloce però voglio vederla anche nel lungo periodo ragazzi quindi in questo caso magari voglio vedere un po' come sta performando nel lungo periodo allora a questi trend ad ascensore allora infiliamo un po' il logaritmo e andiamo a visionare questo grafico siamo vicini a questo livello di massimo allora il trend ragazzi c'è ed è assolutamente forte ragazzi perché comunque guardate qui intanto ingrandisco questo appunto è un trend relativamente forte tutte sono settimane quindi comunque questo questa cripto sta performando a livello di analisi tecnica abbastanza bene non facciamo ciclica in questo momento 196% nell'arco più o meno di qualche mese circa tre mesi insomma sta performando bene è anche vero che siamo arrivati però a un livello molto particolare che è un livello importante cioè il vecchio massimo il massimo storico di KNC avuto ad aprile marzo del 2021 ora i 3 dollari e 80 se breccati potrebbero innescare un movimento impulsivo al rialzo se bitcoin da l'infa perché fa questo break si trascina anche le altre altcoin allora questa cosa è possibile quindi che cosa può succedere ragazzi che se arriviamo qui e lo brecca va in price discovery e poi fa il pump perché magari c'è la questione legata dal fatto che ha breccato il massimo storico quindi fa una cosa del genere poi boom se ne viene qua sopra a fare il pump allora ragazzi queste sono cripto estremamente volatili una cosa del genere può innescare un rialzo importante andiamola a vedere anche su bitcoin e vediamo che anche su bitcoin ha breccato un livello fondamentale perché qui abbiamo un livello di minimo e di minimo poi abbiamo un massimo qui e poi il break che è appena avvenuto del massimo precedente quindi siamo alle prese con questo break quindi ancora ha fatto nella scorsa settimana il break però questa settimana non sta confermando però ragazzi dobbiamo stare attenti a questa cosa perché la prossima settimana potrebbe riprendere la via del rialzo quindi siamo a favore di trend potremmo assolutamente valutare KNC come una cripto alternativa a bitcoin se bitcoin fa il break quindi noi attendiamo il break di bitcoin poi invece di entrare long su bitcoin entriamo su queste criptovalute così ovviamente molto più speculativo quindi sapete che cosa significa dovete stare fortemente attenti anche essere molto 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 straformati per una cosa del genere andiamo a vedere waves che mi piace un pochino di più perché ve la faccio vedere dal sul grafico vediamo se abbiamo un grafico più lungo su bitfinex no ve la faccio vedere sulla questione legata al grafico di contro usd a parte che teoricamente diciamo potremmo anche andare poi a cercarle in caso se vogliamo più grafico su tradingview magari su binance questo perché non ho aggiunto ancora binance qui ragazzi a dire la verità perché su binance opero diretto con la piattaforma allora e sui massimi storici ancora una volta vedete come siamo a questi livelli un break di bitcoin così su waves come su knc può impostare un breakout di questo livello mandarla in press discovery è interessantissimo vedere e cercare di capire quello che può succedere perché ragazzi in press discovery criptovalute del genere solitamente fanno degli slanci questo è il discorso quindi è interessante andarla a vedere ve la mostro comunque parte sulla live la mostro anche su tradingview perché volevo farvi vedere come da un punto di vista di impostazione è veramente long da un po' waves anche sul diciamo sul periodo più lunghetto e poi la voglio vedere anche rispetto a btc quindi andandola a vedere rispetto a btc possiamo anche vedere che ha un trend interessante questo trend vedete è ancora una volta ragazzi aspettarsi che una criptovaluta va in verticale contro btc è stupido quindi bisogna capire anche che questi grafici di forza relativa contro il re delle cripto vanno interpretati per un breve periodo poi di solito le criptovalute non reggono nel proprio tantissimo però guardate dove siamo allora tutto qui si gioca la carta anche su Waves dovesse dare uno slancio e breccare sale su questi livelli poi qui è vero che abbiamo questa parte qui che insomma erano 2017 quindi sono veramente tanto tempo però rientriamo in una struttura di prezzo contro bitcoin che non fa veramente da tanto tempo quindi può tranquillamente spingere verso l'alto quindi anche in questo caso secondo me è interessantissima come criptovaluta passiamo a vedere Rune ragazzi perché Rune la dobbiamo vedere intanto perché Bitfinex non ce l'ha quindi la vediamo qui su TradingView quindi la vediamo direttamente la mia cripto per eccellenza sta andando benissimo anche oggi penso sia una delle top criptovalute io ce l'ho della mia lista blu eccolo qua più 14 15% guardate qui queste sono tutte quelle teoricamente fortine insomma Rune sta performando benissimo ormai lo sappiamo chi di voi è dentro sta performando abbastanza bene allora c'è una trendline che la disegno lo stesso perché è una net è accettabile ma in realtà siamo sul log quindi ecco facciamo così ecco togliamo il logaritmo e ve la disegno meglio perché dovete capire dove siamo allora questa è la trendline interessante non mi piacciono molto le trendline per 1984 miliardi di motivi lo spiego nel corso it's training time basic ho fatto anche un modulo speciale proprio per parlare di tante cose riguardo l'analisi tecnica classica la vecchia è quella nuova quella fatta con i computer l'analisi quantitativa come si gridano insieme il perché le trendline le lasciano un po' il tempo che trovano per una serie di motivi lo spiego in quel corso allora se volete info sul corso ragazzi iscrivetevi una mail perché sono chiusi sto preparando i nuovi e registro ogni giorno sta venendo una figata ma soprattutto sta venendo un botto di roba troppa e comunque chi c'è ha accesso anche alle upgrade quindi se volete entrare iscrivetevi una mail e poi vi rispondo i consulenti allora per quanto riguarda questa cripto è ancora forte long resta quindi io sinceramente ragazzi non mi sento di chiuderla al momento è vero che siamo in alcune situazioni di ipercomprato ma sappiamo bene che le criptovalute queste cose le guardano tante e non quanto primo livello è 11 di resistenza vera al di sotto di questo livello non ci sono vere resistenze ragazzi quindi rune teoricamente potrebbe tranquillamente arrivare intorno ai 10.50 11 e poi si vede anche qui se bitcoin does lancio probabilmente la spinge un pochettino ed è interessante quest'altra criptovaluta forza relativa importante contro bitcoin guardiamo il grafico contro bitcoin e vediamo dove sta anche qui vedete la prima resistenza è a escluso 0 24 qui è 82 quindi 25 questa zona è interessantissima dove se per caso breccare qui ragazzi ci fa un botto su anche contro bitcoin e questa è la terza criptovaluta secondo me anche rune assolutamente interessante da andare ad inserire in questo caso nel nostro portafoglio di trading a forza relativa maggiore va bene andiamo a vedere poi etc ritorniamo a questo punto su atani e andiamo a vedere etch in un classico che nessuno se l'aspettava ma etc ha tirato fuori dal cappello un rialzo incredibile e non lo so ragazzi ritorna in voga etc una cosa stranissima e anche quando comunque le pd ethereum sono tutto sommato accettabili rispetto alla alla diciamo al passato non sono altissime le pd ethereum in questo frangente comunque vabbè allora a cotti fatti dove siamo in questo momento siamo in una versione long ethereum classic può performare può non performare togliamo il logo perché anche qui c'è una specie di trendline particolare che parte dai massimi del maggio del 2021 e sembrerebbe essere stata breccata come vedete qui una struttura trendline si fanno senza il log ragazzi ok anche questa cosa la spiego nel corso allora ritornando diciamo alla struttura normale è arrivata al primo livello di resistenza questa invece c'è a livello di resistenza che è questo l'ha toccato in questa settimana a questo punto bisognerà capire se ce la fa o non ce la fa però ethereum classic per una serie di motivi è quella che mi piace di meno di queste ragazzi perché potrebbe essere il suo classico balzino e poi insomma si ferma qui e soprattutto c'è questo trend di bassista ni anche perché poi guardate quanti livelli di resistenza ha però interessante perché no ha breccato le due medie le mie famose due medie 21 11 che ormai usate tutti quanti da un po' e insomma ragazzi guardate è salita sopra perché no se rientra sopra questo livello potrebbe posizionarsi tra 50 e 75 però io la vedo più spenta rispetto ad altre quindi tra le mie tra le 5 tc la mia è la mia diciamo è quella meno preferita diciamo diciamo così sul bitcoin ancora una volta anche qui ci sono questi livelli di resistenza quindi è arrivato al primo livello di resistenza deve breccare qui però c'è l'incrocio delle medie ragazzi su un grafico addirittura settimanale se io vado a mettermi il giornaliero vi fa capire che cosa sta succedendo quindi a forza la diva ce l'ha rispetto a bitcoin quindi un tantinello si potrebbe anche utilizzare anche etc magari le mie preferite in questo momento sono wales rune ragazzi ecco c'ho l'elenco e poi viene che anzi ed etc ma vediamo ftt che è l'ultima e anche questa è messa benino anche se non mi piace perché intanto ve la mostro anzi invece di farla sulla tania andiamo direttamente qui perché vi voglio fare vedere su ftt la il grafico legato al fatto che probabilmente possa avere un ciclo al ribasso e i cicli ribassisti annuali sono quello che vediamo ad esempio su ada di cui ho discusso anche recentemente ragazzi proprio la questione legata ad ada quando una cripto è in un ciclo annuale ribassista è pericoloso quindi queste fasi di app ci sono ma poi diventa pericoloso insomma e scendono solitamente più facilmente rispetto a come salgono quindi anche ftt ha questa cosa tra le cripto in questione è quella che prediligo un po' di meno perché in realtà la sua struttura ciclica non è proprio pulitissima e non mi piace in quanto probabilmente ha una struttura in fase di maturazione che però deve andare in chiusura annuale a luglio barra anche qui settembre quindi come le altre in sostanza e sembrerebbe proprio essere in un nuovo ciclo semestrale fatto però così quindi questa ha chiuso il primo semestrale qui siamo nel nuovo semestrale non so ragazzi se ce la fa secondo me chiude così quindi tra tutte è quella che mi piace un po' di meno e resta sempre forte rispetto al fatto che sta tentando di superare questo livello di resistenza contro il dollaro però ragazzi qui ci sono veramente tanti scogli perché vedete ce n'è uno qui poi ce n'è un altro qui poi ce n'è un altro qui insomma ha tanta strada da fare ed è difficile secondo me che riuscirà a prendere una via del rialzo probabilmente questo è un ciclo che deve andare a chiudere e anche una coin che viene utilizzata insomma da un exchange è vero che FTT è il top in questo momento vi lascio anche il link in descrizione FTT ragazzi c'è un bonus anche di 10 dollari sulle fee se vi registrate a quel link FTT è una figata ragazzi ok sicuramente però è sempre una cripto legata a un exchange quindi bisogna vedere un po' loro cosa idealmente faranno andiamo a vedere anche la questione legata a BTC la vediamo su Binance e questo mi piace un po' di più questo grafico rispetto a prima perché è poggiato su questo livello di resistenza quindi contro dollaro ha un graficuccio un po' così così contro BTC potrebbe slanciarsi se brecca questo livello di resistenza e fare questa cosetta qui 1 2 cioè un 10% però non è tantissimo ragazzi è questo il discorso quindi in linea di massima è vero che può continuare questa sua fase però ha due livelli molto vicini intorno al 10% quindi questo è quanto allora queste le 5 cripto forza relativa migliore rispetto a Bitcoin negli ultimi tre mesi quale sono le vostre preferite quale vi piacciono di più quale di queste entrano nel vostro portafoglio se Bitcoin breccherà i 45 46.000 e se lo fai nel weekend su quale di queste prendete posizione per andare a cavalcare l'eventuale pump di BTC fatemelo sapere noi su queste qui ci aggiorneremo nella prossima settimana per vedere che cosa è successo magari BTC ce lo fa davvero questo pump e ci fa un bel regalo nel weekend per oggi è tutto noi ci rivediamo nel prossimo video la prossima settimana io poi volerò a Miami come vi ho detto ragazzi quindi sarò un po' fuori zona però insomma resterò in contatto con voi smartphone computer live e soprattutto probabilmente farò dei contenuti proprio in diretta poi vi dico su quali dei miei social li pubblicherò perché su youtube la vedo difficile in diretta comunque noi ci vediamo al prossimo video buon weekend a tutti ciao ciao